Anche Montesilvano avrà i suoi trabocchi, presentato questa mattina il progetto di riqualificazione da circa 2 milioni di euro del Fosso Mazzocco. Qui sorgerà un pontile di 340 metri, il più lungo d'Italia, che culminerà con una forma M, M come Montesilvano, dove verranno realizzati dei trabocchi. Diventa un rendimento di lavori pubblici arricchito da una sua valorizzazione, cioè valoriamo questo aspetto attraverso un pontile, una stazione permanente, dove ci sta un laboratorio di biologia marina, due infrastrutture che servono alle istituzioni per attività sociale e non, e poi il fatto di dare alla città di Montesilvano questo pontile che va a 300 metri e consente poi a chi viene con la barca di potersi ormeggiare sotto il pontile, salire e venire sulla strada. Il cantiere partirà ad ottobre 2023 e dovrebbe terminare nel 2024. Marsilio si è detto favorevole a cofinanziare il progetto, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, ma ci saranno anche fondi privati dei balneatori che continuano a investire, benché tra un paio di anni potrebbero vedere revocate le concessioni. Beh, noi intanto abbiamo il titolo del Magnale che ci scade nel 2033, poi discutiamo se è nullo o non è nullo, ma nel frattempo ragioniamo in questi termini qua. Il ritorno però dovrebbe essere anche ambientale. Le acque reflue che confluiscono nel fosso ristagnano sulla battigia. Con la nuova infrastruttura saranno scaricate a largo con benefici, dicono i tecnici, per la balneabilità delle acque. Puntiamo alla bandiera blu, ha dichiarato il sindaco De Martinis. Il fosso mazzocco da anni ci costringe a interventi volti appunto a evitare malodore, ristagno di acque reflue che si depositano proprio sulla spiaggia e durante i periodi estivi, insomma, per una città turistica, questo rappresenta davvero un problema importante. Ma al tempo stesso, con quest'opera, noi regaleremo al territorio un qualcosa di davvero bello, davvero funzionale, con la restituzione appunto di spazi che possa poter fruire anche lontano dalla spiaggia.